ben ritrovati a tutti amici di Radio Rosso Nera è sabato sabato quattro maggio del duemilaventiquattro e a mattino Milan un pranzo Milan mi verrebbe quasi da dire Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti direi mezzogiorno in famiglia visto che dobbiamo parafrasare i programmi della della tv da mattino a pomeriggio Milan a mezzogiorno in famiglia con Enrico Boiani e Simone Cristão che fa rima con Sergio con Seisão beh preso direi a questo punto allora sono per questa vaccata sì dobbiamo parlare di lui oggi dobbiamo parlare di lui del del Portogallo in generale parleremo visto che c'è anche il nome di Amorim che che gira molto più in in secondo piano per dire la verità quindi faremo sicuramente molti più di con Seisão che rispetto agli altri nomi che sono anche usciti in settimana ha un po più di sostanza ci avete visto in questi giorni essere vi riportavamo un po' quello che si diceva ma non ci avete mai visto essere così super accesi né sul nome di De Zerbi né sul nome di Tiago Motta né su altri nomi che sono usciti in settimana era giusto riportarvi le voci che che uscivano ma come avevamo sempre detto per un motivo per l'altro uno l'altro l'altro ancora avevano degli ostacoli che non ci facevano diciamo così non ci facevano spingere verso quel quel nome come possibile candidato forte per il Milan ecco diciamo che con Seisão invece ha delle delle chance rispetto ad altri che invece chance ne avevano poche e quindi abbiamo spinto poco sì con Seisão è uno dei nomi che forse rientrava in quella categoria no? A metà tra i Lopeteghi, Fonseca e allenatori un pochino più imprendibili per mille motivi o il sogno che che era Antonio Conte quindi è un nome un pochino più concreto e io a me piacerebbe sapere un po' infatti per questo vi invitiamo a lasciare un commento qua sotto a dirci la vostra mi piacerebbe sapere quale sarebbe qual è il il sentiment il famoso sentiment no? Proprio su su con Seisão perché per quanto mi riguarda cioè presumo senza arrivare a dire la nostra presumo che sia un allenatore che possa dividere cioè mi immagino commenti della serie piuttosto che Lopeteghi o Van Bommel o altri nomi è meglio lui che ha fatto anni di Champions va bene alla fine dei conti o altri invece commenti che potranno dire non va bene siamo sulla falsa rega di Lopeteghi eccetera eccetera no ma sto ipotizzando quello che potremmo leggere nei commenti e non sto dicendo che sia così non lo so resto un pochino indifferente ecco capisco che sia una spanna sopra rispetto a ad altri allenatori che sono stati accostati al Milan a me personalmente non è che faccia mega impazzire però no è ovvio che che dovesse essere l'allenatore del Milan dovesse diventare l'allenatore del Milan essendo uno dei nomi un pochino più concreti la speranza è che possa fare molto bene che possa partire bene possa portare il Milan a vincere ci mancherebbe altro. Io sono un pochino a metà in questo discorso nel senso se mai essi fatto questa domanda un mese fa ti avrei detto no dai si può fare qualcosa di meglio insomma per partire con un nuovo ciclo potremmo fare qualcosa di meglio. Poi vedo il calendario siamo al 4 di maggio e alcuni nomi sono sono volati via che magari potevano anche incontrare qualche qualche diciamo così qualche aspetto positiva in più rispetto a con 6 sao qualche noi abbiamo capito che non se ne fa nulla diciamo che qui stiamo parlando di gusto e poi parliamo di quello che c'è realmente può essere un nome spendibile ecco se tra il ventaglio di nomi che sono fatti in questi giorni tra quelli che in questo momento possono essere sul mercato per me so che è brutto da dire che sembra almeno peggio però è un buon allenatore cioè non posso dire che non sia un buon allenatore poi conosce l'Italia si parla italiano anche ha già esperienza con il doppio impegno perché da anni al porto adesso vi faccio vedere un po' là il suo storico gioca campionate champions league ad alto livello comunque il porto in un modo o nell'altro praticamente quasi sempre passa il girone di champions league cosa che abbiamo visto non è che sia proprio scontata arriva ai quarti a volte arriva anche gli ottavi arriva gli ottavi a volte arriva anche ai quarti è un buon allenatore che monta e smonta il porto visto che il porto per definizione viene sempre un po montato e smontato per acquisti che vanno e vengono tra tutti prendo volentieri anche perché faccio la tara su una questione la gomotta che potrebbe essere più interessante per certi versi non ci sono grandi margini quindi è inutile che tra rete ci facciamo la testa non c'è grande margine per andare su gomotta servirebbe mezzo miracolo quindi che al momento non vedo all'orizzonte se ci potrebbe piacere un pochino più dei zerbi sì ma dei posti per portarlo qui che sono superiori molto superiori a con sei south e quindi tra l'altro bisogna per capire anche la sua volontà perché non è così detto che magari voglia definitivamente lasciare il brighton quindi tra quelli che sono in questo momento anche un po liberi è un buon nome ok non ti ho convinto no a me a me non piace cioè a me non a me con sei sa non piace ripeto riconosco che sia un buonissimo allenatore dovesse diventare l'allenatore del milan sarò il primo a sostenerlo a sperare che vinca tutto col milan e che ci faccia divertire che ci faccia giocare bene che partirei come spesso mi capita quando c'è qualcosa di nuovo con curiosità con con attesa e neutrale diciamo con un giudizio neutrale che viene poi dato solo e soltanto a fine diciamo a fine operato o a pieno operato ecco quindi non sto dicendo che 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 mi arrabbio cose simili cioè assolutamente avrei preferito tanto altro avrei preferito che il milan si fosse mosso prima avrei preferito che il milan avesse in testa altri nomi di di un livello ancora più alto e così non è e questa cosa a me non mi fa dire vabbè prendiamo con se sa va bene che bello rose e fiori è questo il punto poi ripeto è una cosa è le aspettative che avevo che avevamo che si potevano avere che magari anche tanti tifosi avevano è una cosa è poi la realtà dei fatti non cioè quando le cose succedono che tutti quanti facciamo facciamo il tifo per la stessa squadra e quindi tutti quanti spereremo che il milan andrà bene se mi dici sei contento di con sei sa o vediamo quando ha finito lì ti dirò se sono stato contento o no adesso personalmente ti dico ni no no lo so henry io faccio molto un discorso molto realista sul 4 di maggio dove i lopeteghi sono un po bruciati dalla piazza non lopeteghi però se si dovesse andare su fonseca non mi immagino onestamente che il tifoso del milan lo accolga a braccio aperto dopo aver fatto petizioni e comunicati su lopeteghi quindi vediamo ma non mi sembra in questo momento anche se è considerato questo sì non possiamo dire di no è considerato dalla dirigenza un nome comunque molto spendibile per certi versi a meno che non si dice di tirare dritto e ci sta su tiago moto abbiamo detto su the zervi pure su entrambi non ci sono stati nemmeno contatti in questa settimana poco e niente quasi niente quindi sono non so come dirti sono un po poco spendibili e quindi come se non ci fossero nemmeno da un certo punto di vista altri allenatori non ci sono è solo che a me simo fa un po specie che cioè c'è stata la rivolta popolare comunicati della curva raccolte firme petizioni eccetera eccetera per non avere assolutamente lopeteghi e poi c'è la correzione del tiro è con sei sao che sarà sicuramente uno step sopra rispetto a lopeteghi assolutamente anche due anche due ma non è che hai fatto un salto epocale ecco no no quello no quello no questo ti sto dicendo perché c'è lopeteghi con tutto il diciamo tutto quello che è successo e meno male ti direi che ha fatto sì che non arrivasse al miram ma nemmeno l'ultimo degli scemi rispetto agli altri allenatori che sono stati accostati al milan quindi ecco cioè rimango un po così indifferente distaccato per il momento con la speranza che con sei sao abbia la media di 2.7 al milan ci faccia vincere l'ottava champions alla seconda stella è ovvio però vediamo dai vediamo avanza con sei sao scrive gazzetta nuovo candidato forte la società lo apprezza lui lascerebbe il porto ecco la diciamo così la verità tra virgolette sta invece in alto a destra ovvero Orge Mendes propone il portoghese ex inter il diavolo ci pensa può esserci un derby con Fonseca qua siamo più o meno cioè partiamo da un presupposto se il presidente pinto da costa qualche giorno fa vince le elezioni al porto probabilmente con sei sao rimane lì dov'è visto che era il suo allenatore da candidato alle presidenziali del porto vinto la costa rimane dopo altri cose sono 30 40 anni se non ricordo male da quant'è che presidente rinnova il mandato conferma con sei sao e con sei sao non esiste nemmeno come chance per il milan a quel punto in questo momento c'è la chance perché ha vinto le presidenziali village bosch quindi da un tecnico dell'inter a un ex giocatore dell'inter no scherzo e quindi non è più il suo candidato per la panchina tutt'altro e quindi si potrebbe liberare ergo Mendes fa il suo nome il milan lo riceve e non lo scarta lo valuta e per capire se c'è la possibilità di qui siamo cioè non siamo non siamo oltre però non siamo nemmeno nel campo di altri allenatori che non hanno chance per mille motivi vuoi per clausole vuoi per costi vuoi perché sono promessi sposi di altre squadre eccetera ecco qua quasi a proposito di portogallo visto che sembra che siamo legati a doppio filo a morim che è l'altro nome interessante che arriva dal portogallo ha anche lui dei costi un po' importanti lo lascerei un po' sullo sfondo per ora vorrebbe dire mettere sul piatto altri soldi per portarlo via a meno di un gentleman agreement come al solito come per The Zerby eccetera però fatto sta che tra morim con silisau e fonseca ci sono ampie possibilità che il prossimo allenatore del milan sia portoghese questo e quindi Henry quindi niente si troverà bene con Ra parlerà con Ra esattamente esattamente bene qui siamo come detto siamo all'inizio di qualche dialogo per capire se c'è margine visto che margine un po' c'è vedremo se si andrà avanti si capirà se è candidato buono oppure no lo racconteremo nei prossimi giorni nel caso in tutto ciò Henry una buona notizia ma non me ne voglio il mister per il milan se Pioli dovesse trovare posto sulla panchina del Napoli quantomeno il milan risparmierebbe la quota stipendio per il prossimo anno visto che a quel punto si accaserebbe a Napoli il milan dovrebbe pagare l'anno di stipendio rimasto a Pioli e quindi visto che sembra andare in quella direzione la vicenda vediamo se se andrà bene gazzetta qui scrive giusto nel senso il Napoli apprezza Pioli bisogna vedere se Pioli ha la volontà di andare sì ci può stare ci può stare anche nel senso sarebbe un male per il milan a livello economico ma ci può stare anche che si fermi in attesa magari non so se o di qualcosa di meglio in corsa o l'anno prossimo o semplicemente perché comunque è stato un ciclo lungo quello di Pioli quindi si può stare anche che uno dica mi fermo un attimo e come hanno fatto in tanti no mi fermo un attimo poi e poi riparto vediamo di sicuro mi sento di dire una cosa cioè per quanto mi riguarda siamo stati molto duri con Pioli quest'anno per tanti motivi io personalmente lo sono da ancora prima no da quel gennaio 2023 disastroso io credo fermamente che possa fare meglio di tutti i allenatori che sono stati a Napoli quest'anno Pioli a Napoli che comunque nonostante tutti tutti i problemi che ci sono stati al milan che che potrebbe fare bene ecco anche perché è una squadra che dopo lo scudetto vinto poi deve un po' ripartire no deve un po' rivalutarsi deve un po' ritrovare un po' di linfa e quindi quindi magari potrebbe far bene quindi Stefano siamo contenti tutti tutti ridai un'altra chance una piazza comunque grossa noi risparmiamo ci siamo voluti bene forza al netto del fatto che non credo che abbia Osimena a disposizione l'anno prossimo ma tanto no nemmeno Henry grazie ci ritroviamo tra poco per le nostre clip poi ci ritroviamo non abbiamo detto niente della partita Simo non abbiamo detto niente di domani perché perché uscirà domani mattina il preview sì ricordando che non c'è Mike sai cosa faremo con Mike mettete like a questo video anche se siamo in chiusura se siete arrivati fino a qui mettete mi piace ciao ciao